C'è un paio di scarpette rosse numero 24 quasi nuove. Sulla suola interna si vede ancora la marca di fabbrica Schultze Monaco. C'è un paio di scarpette rosse in cima a un mucchio di scarpette infantili a Buchenwald. Più in là c'è un mucchio di riccioli biondi, di ciocche nere e castane. A Buchenwald servivano a far coperte per i soldati, non si sprecava nulla e i bimbi venivano spogliati e rasati prima di spingerli alle camere a gas. C'è un paio di scarpette rosse, di scarpette per la domenica. A Buchenwald erano di un bimbo di tre anni, forse di tre anni e mezzo. Chissà di che colore erano gli occhi bruciati nei forni, ma il suo pianto forse lo possiamo immaginare. Si sa come piangono i bambini, anche i suoi piedini li possiamo immaginare. Scarpa numero ventiquattro per l'eternità, perché i piedini dei bambini morti non crescono. C'è un paio di scarpette rosse a Buchenwald, quasi nuove perché i piedini dei bambini morti non consumano suole.